Giornata senese per il presidente della regione toscana Enrico Rossi che con il direttore generale dell'azienda ospedaliere universitaria senese Valtere Giovannini e il rettore dell'università di Siena Francesco Frati ha siglato un accordo per la realizzazione del nuovo complesso didattico Le Scotte destinato ad attività di ricerca e formazione. 12 milioni di finanziamento regionale per l'acquisto dell'immobile dell'università da parte dell'azienda ospedaliere universitaria. Il ricavato servirà a costruire il nuovo complesso. Nel corso della giornata alle Scotte sono stati inaugurati anche un nuovo strumento per l'analisi del genoma Nova Sec 6000 e un nuovissimo tomografo per la risonanza magnetica nucleare. Siamo di fronte a quel mix di passione impegno di lavoro volontà di prendersi in cura ai cittadini e anche capacità competenza tecnologia più avanzata. Un esempio davvero per Siena ma non ho rumore di dire per tutta la sanità toscana. Per l'assessore Stefania Saccardi con la firma dell'accordo alle Scotte e con l'inaugurazione dei due nuovi strumenti all'avanguardia sono stati raggiunti due obiettivi. Quello di consentire all'università di andare a realizzare un polo didattico degno del valore e della storia dell'università di Siena. Allo stesso tempo abbiamo recuperato spazi per l'azienda ospedaliera di Siena che in questo modo potrà adibire spazi ulteriori e rinnovati all'attività ambulatoriale e a continuare aрывare. леж